Questo formaggio si chiama Pannerone di Lodi ed è prodotto in provincia di Lodi, precisamente a Caselle Lurani. Si tratta di un formaggio fatto a latte crudo, latte vaccino appena munto e caglio, caglio naturale di vitello, senza l'aggiunta di sale e senza fermenti. Viene quindi lavorato il latte a temperatura di mongitura, senza l'aggiunta di nient'altro e una volta fatto il Pannerone viene messo a stagionare in una camera calda, da noi chiamata Stufa, dove viene mantenuto circa una settimana ad una temperatura di 30-32 gradi, dove avviene appunto la fermentazione naturale che le dà tutti questi buchini che sono la sua caratteristica. Oltre al sapore amaro, che è un'altra caratteristica del Pannerone, è un presidio slow food e per questo suo gusto un po' particolare si mangia abbinato a miele, marmellata, mostarda oppure si usa in cucina per mantecare i risotti. Grazie. 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 Grazie.